Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici! Con grande gioia in questo tempo di avvento attendiamo la venuta del Signore Gesù e lo attendiamo fin dal mattino con un cuore che è aperto, che è disponibile ad ascoltare la Sua parola e a metterla in pratica. Leggiamo oggi il Vangelo secondo Matteo, capitolo 9, versetti 27 e 31. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» Entrato in casa, i ciechi li si avvicinarono e Gesù disse loro «Credete che io possa fare questo?» Gli risposero «Sì, oh Signore!» Allora toccò loro gli occhi e gli disse «Avvenga per voi secondo la vostra fede!» E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo «Badate che nessuno lo sappia!» Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Amen. Accogliamo anche il profeta Esaia che oggi ci viene dato dal capitolo 29, versetti 17 e 24. Così dice il Signore Dio «Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in frutteto e il frutteto sarà considerato selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole del Libro. Liberati dall'oscurità e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore. I più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante. Saranno eliminati quanti tramono iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla. Pertanto dice alla casa di Giacobbe il Signore che riscattò Abramo «D'ora in poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallidirà più, poiché vedendo ai suoi figli l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza, quelli che mormorano impareranno la lezione. Amen. Amen. Carissimi amici, quanto è bello oggi ascoltare la parola di Dio. Quanto è bello oggi accogliere il Vangelo. E' il profeta Isaia che è venuto a parlare direttamente alla nostra casa, direttamente ai nostri cuori. Quanto è bello davvero, carissimi amici, oggi ascoltare che Gesù è un Salvatore potente, che Gesù è venuto per aprire gli occhi ai ciechi. E lo ascoltiamo sia nel Vangelo sia nel profeta Isaia. Tanto che nel Vangelo, che abbiamo ascoltato oggi, c'erano due ciechi che vanno da Gesù, hanno fiducia, gli dicono figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù risponde loro dicendo credete che io possa fare questo? Ecco che in questo tempo di avvento noi vogliamo andare da Gesù, vogliamo andare alla Sua presenza, vogliamo stare con Lui e dirgli apri i nostri occhi in questo tempo, che noi vediamo la Tua presenza, che noi vediamo la Tua luce, perché alla Tua luce la nostra vita è più bella, è più chiara, è più nitida. sappiamo quale via percorrere, per quale strada andare. I ciechi dicono noi crediamo che Tu, Gesù, possa fare questo. Ecco che il Vangelo di oggi ci interpella. Vuoi avere gli occhi aperti? Vuoi vedere che Dio è presente nella Tua vita? che Dio agisce concretamente? Allora rispondi anche tu a questa domanda. Credi a Gesù che può fare questo? Perché i ciechi hanno detto sì o Signore. Allora Lui risponde dicendo avvenga per voi secondo la vostra fede. Amen. E il profeta Isaia oggi dice la stessa cosa. da una profezia alla venuta del Cristo di Dio alla venuta del Salvatore potente dice in quel giorno i sordi odranno le parole del libro e liberati dall'oscurità e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno. Fratelli e sorelle quando Gesù viene nella nostra vita porta cambiamenti, porta novità, porta qualcosa di nuovo. quando il Signore viene nella nostra vita ci apre gli occhi e tante cose che non riuscivamo a vedere Dio ce le fa vedere perché è al nostro fianco, è accanto a noi. Quindi non lasciamoci scoraggiare dalle tenebre, dall'oscurità ma fissiamo oggi in questa parola il nostro sguardo. Rimettiamo tutta la nostra fiducia nel Signore e lasciamo davvero che risuoni come queste campane qui a Strona l'invito della parola di Dio. Chiedi con tutto il tuo cuore di gioire nel Signore che viene. Chiedi con tutto il tuo cuore di gioire che il Signore cambi la tua vita perché Gesù stesso ci ha donato la Sua parola che oggi si fa carne e nel profeta Isaia si dice gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore e i più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Quanto è importante fratelli e sorelle oggi gioire nel Signore rallegrarci in Lui e noi siamo umili essere umili significa riconoscere che Dio viene che Dio è potente e viene in aiuto di tutte le nostre debolezze. Amen lo slogan di oggi per questo è gli occhi dei ciechi vedranno preghiamo questa parola insieme Maranatà vieni Signore Gesù vieni e tocca il nostro cuore oggi tocca i nostri occhi perché possono vedere che tu sei vivo che tu sei presente che tu ti manifesti oggi nella nostra vita noi abbiamo bisogno di te Signore manda il tuo Spirito Santo pieni il nostro aiuto e soccorso grazie perché tu sei fedele grazie perché come tu hai guarito questi due ciechi e perché hai visto la loro fede e fiducia in te così guarisci i miei occhi il mio cuore guarisci tutta la mia famiglia ti voglio presentare davvero i miei cari coloro che hanno bisogno di te e bisogno di guarigione intervieni Signore affinché sperimentiamo in questo avvento che tu stai venendo e tu vieni portando segni e prodigi nei nostri cuori e nella nostra vita a te Signore Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli ame che così sia cari amici e questa parola si faccia carne nella nostra vita e la viviamo tutta questa giornata ieri sera abbiamo avuto un bellissimo incontro di casa di preghiera grazie per come ci avete seguito per ogni vostra intenzione di preghiera ma noi continuiamo a pregare sappiatelo vogliamo anche dirvi perché diversi di voi me lo hanno chiesto di poter incontrarci venirci a trovare che siamo sempre aperti qui abbiamo quattro parrocchie la parrocchia di Strona di Veglio di Camandona di Callabiana ma la comunità coinonia Giovanni Battista in particolari modi consacrati siamo qui in casa parrocchiale a Strona e ogni domenica alle 9.30 facciamo la celebrazione eucaristica tra l'altro animata anche dai nostri bambini e giovani del catechismo e dell'oratorio quindi in un'atmosfera davvero gioiosa e in particolar modo come coinonia organizziamo incontri di evangelizzazione domenica 5 dicembre qui a Strona un incontro Gesù vive e domenica 12 dicembre a Torino l'incontro Gesù vive con preghiera con lettura della parola di Dio insegnamento e intercessione davvero quando volete venire anche in altri momenti della settimana noi siamo qui pregheremo con voi per voi e vi accoglieremo grazie anche per tutti i sostegni che voi ci date grazie per i caffè del Vangelo perché noi come comunità viviamo di provvidenza e ogni caffè è davvero un grande dono che aiuta l'evangelizzazione e anche questi video ad andare avanti buona giornata ci vediamo domani ciao a te signore innalzo l'anima mia in te confido a te signore innalzo l'anima mia in te confido fammi conoscere signore le tue vie insegnami i tuoi sentieri guidami nella tua fedeltà e istruiscimi perché sei tu il dio della mia salvezza a te signore innalzo l'anima mia in te confido buono eretto è il signore indica ai peccatori la via giusta guida i poveri secondo giustizia a te signore a te signore a te signore a te signore